Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video tutorial Anche oggi come potrete vedere siamo di fronte a un desktop remoto che corrisponde a una macchina di controllo di un nostro cliente quindi è bene sapere che alcune operazioni potrebbero risultare un po' lente perché siamo in accesso remoto Ora, quello che vedremo oggi è una casistica molto comune quella che prevede il trasferimento di una macchina, di una VM da un SXI server ad un altro SXI chiaramente senza l'ausilio di software costoso e di software di terze parti tanto meno senza l'utilizzo del vCenter proprio per rispettare i nostri paradigmi cioè quello di avere un'infrastruttura informatica di tipo low budget per le piccole imprese chiaramente è possibile farlo a macchina spenta perché stiamo facendo riferimento in quelle situazioni in cui la VM si possa spegnere quindi ad esempio durante il weekend per tutte quelle aziende appunto che non hanno software di tipo critici all'interno delle VM stesse e quindi ritornando a noi un possibile passaggio potrebbe essere quello di effettuare chiaramente il col tasto destro sulla macchina virtuale o meglio andiamo ad aprire un vSphere andare a selezionare la macchina e andare a cliccare su file export posizionarlo il file tipo ovf sul desktop oppure su un'unità di storage e dall'altro SXI andarlo a importare è chiaro che questo meccanismo molto manuale mal si presta ad automatismi quindi quello che vedremo oggi è l'OVF Tools che sono dei tool è un tool prodotto chiaramente dal VMware dove potrete tranquillamente andare a leggere il manuale presente molto ricco di informazioni che gestisce diciamo così i file di tipo ovf quindi partendo da questo presupposto andremo a vedere come con una semplice riga di comando dopo aver chiaramente installato l'OVF si possa inviare un AVM da un SXI ad un altro anche in quei casi dove alcuni software ci hanno risposto picche perché l'SXI sorgente è una 4.01 il destinatario è una 5.1 ma passiamo subito all'azione passiamo subito ad effettuare il download dell'OVF Tools andando chiaramente nella pagina della community di VMware e cliccando su Download sito e indirizzo raggiungibile tranquillamente anche attraverso l'uso di una comune ricerca su Google con OVF Tools Download chiaramente dobbiamo essere iscritti al My VMware e quindi adesso inseriamo le nostre credenziali di autenticazione attendiamo qualche secondo che il sistema ci riconosca eccolo qua ora è chiaro che abbiamo alcune possibilità cioè alcuni pacchetti differenti in base al sistema operativo che stiamo utilizzando sempre facendo riferimento al fatto che stiamo utilizzando una macchina di controllo che nel nostro caso per semplicità utilizziamo un sistema operativo tra virgolette desueto che è Windows XP possiamo scaricare il VMware OVF Tool la 3.1 Windows di tipo a 32 bit quindi andiamo ad effettuare il download andiamo ad accettare i termini e dovrebbe partire subito il download che è molto piccolo siamo intorno ai 12 GB eccolo qua un attimo di pazienza era già scaricato però per farvi vedere la corretta procedura l'abbiamo disinstallato e reinstallato quindi dopo aver effettuato il download che chiaramente possiamo anche diciamo interrompere perché ce l'abbiamo andiamo ad installarlo dove è una comunissima installazione il classico avanti 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 quindi next accettiamo i termini di licenza avanti avanti e alla fine clicchiamo su installa chiudiamo tutti i pannelli aperti e a questo punto possiamo anche chiudere il nostro Firefox andiamo a riaprire l'installazione il setup del VMware OVF Tool Firefox non si è chiuso eccolo qua chiudiamo tutte le schede ok, è pronto per essere utilizzato prima però di utilizzarlo sarebbe opportuno presentare lo scenario quello che ho detto all'inizio ve lo faccio vedere direttamente quindi questo è l'SXi è l'SXi di partenza, il sorgente dove avevamo un sacco di macchine e chiaramente dovevamo passare al nuovo server SXi molto più potente per verificare effettivamente la versionatura del nostro SXi abbiamo che è la 4.1 l'SXi di destinazione che è un ottimo Dell come si può vedere eccolo qua un PowerAge R520 possiamo andarla a vedere direttamente con l'Help l'SXi è la versione 5.1 ora abbiamo detto tutto non ci resta che ritornare chiaramente al nostro SXi di partenza stiamo trasferendo una macchina quindi andiamo nel settaggio giusto per vedere il quantitativo dei dischi che dobbiamo trasferire quindi abbiamo un 60 giga più un 100 giga chiaramente non tutti pieni tutti occupati quindi in questo momento non dobbiamo far altro che stopparla brutto il termine stopparla quindi fermarla andiamo a cliccare su spegni ok shutdown l'abbiamo l'abbiamo fermata quindi adesso possiamo andare direttamente all'interno della nostra CMD chiudiamo tutto così abbiamo un'immagine più pulita andiamo all'interno della CMD per poter direttamente dirigerci nella cartella all'interno della quale è stato installato l'OVF Tool e far partire il comando direttamente dalla CMD ci posizioniamo all'interno della cartella all'interno della quale è stato installato l'OVF Tool per poter verificare chiaramente il comando la struttura del comando quindi cd programmi cd vmware ok andiamo a vedere cosa c'è dentro perfetto cd vmware ovf tool andiamo a verificare e c'è ovf tool ora per diciamo per la struttura del comando è abbastanza semplice la possiamo già mandare in esecuzione e mentre la scriviamo andiamo via via a vedere cosa serve quindi ovf tool il primo per chiamare il comando meno ds che è datastore 1 ora il meno ds uguale datastore corrisponde in realtà al datastore di destinazione quindi dobbiamo andare a inserire a identificare il datastore all'interno dellsxi di destinazione da usare quindi quello del del è il datastore 1 successivamente andiamo a scrivere v due punti slash slash root invece successivamente dobbiamo andare ad inserire lsxi sorgente che è 192 168 0.145 slash la macchina la VM da trasferire e quindi si chiama windows 2008 per eliminare qualsiasi problema di errore nei nomi faccio una copia e gliela sparo direttamente all'interno della cmd e alla fine dobbiamo andare a scrivere lsxi di destinazione quindi molto molto semplicemente 192 168 0 172 quindi che cosa abbiamo scritto VMware ovftools meno ds uguale datastore 1 ci ricordiamo che è il datastore di destinazione v root 192 168 0 145 windows 2008 e la macchina la VM da trasferire che si trova nell'SXI sorgente e successivamente va dato l'SXI di destinazione quindi io a questo punto cosa mi aspetto dopo l'invio mi aspetto che mi chieda le credenziali di accesso dell'SXI in effetti di l'SXI sorgente mi ha dato un errore errore che si fa si risolve molto molto velocemente andando tranquillamente all'interno della macchina windows 2008 perché non riesce ad esportare l'OVF tool alcune alcuni dispositivi usb e in questo caso abbiamo una smart key della Eutron quindi facciamo una remove e andiamo a ricrearlo ci ha chiesto chiaramente la login e la password andiamo a scrivere perfetto adesso ci chiederà le credenziali di autenticazione della destinazione che andiamo a inserire quindi sta prendo il target ha aperto il sorgente ha aperto il target e la cosa che adesso ci dobbiamo aspettare è che sta esportando un OVF template windows 2008 e lo sta importando dall'altra parte quindi tutto molto semplicemente se volessimo andare a vedere nel browse datastore della destinazione troveremo già windows 2008 che sta pian piano pian piano importando quindi eccolo qua ragazzi il gioco è fatto tutto tutto molto semplicemente vi saluto e no non vi saluto niente per il semplice fatto che dobbiamo verificare effettivamente se la VM è stata correttamente trasferita quindi non ci resta che aspettare il completamento dell'esecuzione del comando dopo un bel po' di tempo il trasferimento si è concluso a questo punto non abbiamo alcun errore mostrato nella CLI andiamo a fare un'analisi di quello che accade sul SXI destinazione e vediamo che windows 2008 come VM è presente nella sorgente windows 2008 è spento quindi non ci resta che considerando che l'SXI di destinazione è decisamente o meglio il server sul quale è installato l'SXI di destinazione è decisamente più potente andiamo a mettere qualche processore in più e un po' di RAM in più ok dobbiamo chiaramente far sì dobbiamo chiaramente chiamare il cliente per trasferire la chiavetta dal dall'SXI dal server sorgente al server di destinazione aggiungere l'USB all'interno del server di destinazione e il gioco è fatto per far partire subito la VM come abbiamo detto precedentemente dobbiamo montare chiaramente la chiavetta dispositivo USB lo troviamo Eutron Smart Key USB 2.0 andiamo avanti ok e adesso il software chiaramente installato sul Windows 2008 che è un software di contabilità può partire e deve partire senza alcun problema open console andiamo a vedere se parte tutto senza problemi play adesso ci aspettiamo che faccia la domanda dove dobbiamo cliccare su i move it non ce l'ha fatta eccolo qua il gioco è fatto il tutto è stato passato senza alcun problema e quindi facciamo solo un check per verificare l'accesso ma non dovrebbero esserci problemi in effetti non ci sono problemi la macchina cede senza problemi brutto gioco di parole però è così e quindi il nostro tutorial riguardante OVF Tools ha avuto termine non ci resta che salutarci e arrivederci al prossimo video tutorial ciao ciao